Un inquietante assassino ha una macabra abitudine di arrossire le sue vittime con scariche elettriche e sta terrorizzando la città di Gravetown. L'ispettore Peter Haddock e il filo aiutante Dawn Parrish brancolano nel buio. Andrea Fiore, l'elettricista suona sempre 220 volt semiserie al thriller. Andrea buonasera, benvenuto. Ciao Claudia, come stai? Io benissimo, tu stai bene. Sono contento di essere ancora tuo ospite nella tua trasmissione, mi ha portato molta fortuna la scorsa volta. E speriamo che ti porti fortuna anche questa volta, questa volta in cui racconti una storia che è molto diversa dalla prima, però in ogni caso mantiene alcuni aspetti della prima, che ricordo è la storia di morte ricotta e mascarpone. Allora, questa volta entriamo in un'altra vicenda, entriamo nella vicenda di un assassino che ha la macabra abitudine di arrossire le sue vittime con scariche elettriche e investigare su di lui l'ispettore Peter Haddock e Dan Parrish. A partire da questa storia si snoda una vicenda intrigante, ma soprattutto ricca di colpi di scena. È così? Sì, è proprio così. È una storia che rappresenta una miscela esplosiva. Ci sono i due protagonisti della storia precedente, anche nell'elettricista sono sempre 220 volt, l'ispettore Peter Haddock e il suo assistente Dan Parrish. Diciamo che ereditano questo caso quando già l'elettricista è stato fuori, ha fritto, tra virgolette, ben 16 vittime. Quindi è un caso molto complesso e loro annaspano inizialmente, annaspano tantissimo, anche se poi i colpi di scena e le situazioni grottesche sono tantissime. Proprio tipiche del semiferial thriller, che poi quello che faccio io è un thriller semiferio che ha molto di demenziale. A parte la logica c'è anche molto di situazioni paradossali, di situazioni grottesche, di situazioni proprio spinte fino all'inverosimile. Però ascolta, questo semiferial thriller, come tu dici, ovviamente ci porta anche all'interno dell'altro aspetto che mi piace definire proprio significativo della tua scrittura, la tua cifra stilistica fondamentalmente. Ed è naturalmente questa scelta di piegare, di giocare con la lingua in modo tale di creare una sorta continua di dissonanza, di gioco stilistico, di richiamo. Insomma, un sorriso che è anche un pastisce letterario. Insomma, giochi con questo italiano? Esatto, io ho proprio voluto fare una scommessa già con il primo libro, che ho voluto avvistare e ripetere anche con il secondo. Quella di costringere l'italiano a piegarsi ad un genere che è un libro, trascere il credito. Una lingua che quindi viene articolata in maniera stranda, in maniera anomala, che viene appunto stressata, che viene coinvolta in situazioni che non le appartengono. Una lingua italiana che probabilmente non è più italiana alla fine. Questo è lo strumento attraverso il quale narro una storia che ha una logica seria, ma che alla fine, anche attraverso il linguaggio, fa ridere tanto. Almeno, questo è l'auspicio che ho e speriamo che per il redattore sia così. Ma credo che sicuramente lo sarà, insomma, anche perché l'ironia, la dissacrazione di questo testo è qualcosa di davvero carino. Insomma, fa piacere leggerlo, ecco. Allora, dopo il primo e il secondo, possiamo immaginare di avere un terzo episodio dell'avventura di Peter Haddock e di Dan Parrish? Ma guarda, io me lo auguro davvero tanto. Io spero di poterlo scrivere, ma come sai, come accade sempre in tutti quelli che scrivono, poi bisogna aspettare che arrivi l'ispirazione. E a me l'ispirazione arriva così casualmente, quando meno me l'aspetto, perché, insomma, arriva l'idea e me l'appuncio, e magari una volta è il figlio, una volta è la storia seria, una volta è la parte rivanciana. Ancora in questo momento lo sto aspettando. Diciamo che mi sto godendo il secondo libro, ma potrebbe arrivare da un momento all'altro l'idea per il terzo. E speriamo che arrivi presto. Io ti ringrazio davvero di essere stato qui con noi. Andrea, un abbraccio grandissimo e a presto. Sono io che ringrazio te e ringrazio anche gli amici della radio. Ciao!